Una violenta lite iniziata dentro il locale e poi continuata all'esterno del parcheggio del club Casa di Caccia a Monastier. Un gruppetto di ragazzi di origini balcaniche per futili motivi ha aggredito alcuni giovani di colore colpendoli con calce e pugni. Non solo, poi armati di coltello e utilizzando anche alcuni cocci di bottiglia hanno continuato a sferrare numerosi colpi. Immediatamente sono state allertate le forze dell'ordine, ma prima dell'arrivo della pattuglia dei carabinieri il gruppetto di aggressori si è dato alla fuga. Gli uomini dell'arma hanno ascoltato i testimoni, poi hanno setacciato la zona. Poco distante dal luogo dell'aggressione è stato trovato un coltello serramanico abbandonato durante la fuga. Le tre vittime sono state medicate, hanno riportato le già referite da taglio e lesioni traumatiche per le quali sono state necessarie le cure presso l'ospedale Caffoncello. I carabinieri hanno visionato i filmati della videosorveglianza ed hanno individuato e identificato gli aggressori. Si tratta di due fratelli albanesi pregiudicati per delitti contro la persona, uno dei quali minorenne. I carabinieri li hanno deferiti all'autorità giudiziaria.